Buonasera. 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 Tu sei? Io sono Giovanna. Buonasera. E vengo da Perugia. Ho 50 anni e faccio la Perugia. Ok. Io ho preparato il primo piatto, una pasta fresca ripiatto. Fantastico. Raccontaci anche un po' della tua ficca. Che ci piace? Allora, io sono una madre di famiglia. Ho due valigie piccole, che ho avuto nel mio precedente matrimonio. Ho due cani, un avvocato e un nuovo marito. Perché il primo l'hai lasciato? Il primo mi ha lasciato lui. Perché si è innamorato di mia sorella. La tua sorella? Sì. No. Sì. No. Ammazza. E sta con tua sorella? Scandola. Sì. No. Sta morendo la giudice. Scusa, la Clugi è nuova qui. Non si sa come comportare. E la zia dei tuoi bambini scappa con il loro padre adesso? Sì. Fantastico. È cattiva. Sei una bella ficca. Mi piace molto. Grazie. Quando sei entrato, la prima cosa che ho guardato, sai cosa è stata? La fissi sorda. Questo è solo l'inizio. Grazie. Adesso toccate la ficca. Sì.